Negli ultimi venti anni la Francia ha avuto quattro capi di governo che li coincide con il Presidente della Repubblica. Il Regno Unito ha avuto cinque primi ministri. La Germania tre cancellieri. L'Italia undici presidenti del Consiglio. Una instabilità che ci penalizza nei rapporti con gli altri stati, perché chiaramente ci fa apparire poco credibili. Ad affermarlo, in un video su Facebook, la Presidente di FDI, Giorgia Meloni. Una instabilità continua che penalizza gli italiani, perché governi che durano così poco non hanno una visione di lungo periodo. Cercano sempre e solo consenso facile e immediato. Anche per questo dal 2000 al 2019 l'Italia è cresciuta meno di chiunque altro in Europa, solo del 4%. Nello stesso periodo in cui Francia e Germania crescevano più del 20%, poi sempre la Meloni aggiunge, l'instabilità politica è uno dei principali fattori del nostro declino economico. Il presidenzialismo non è una misura astratta, è la più potente misura economica di cui necessita l'Italia. Se gli italiani ci daranno fiducia e forza alle prossime elezioni, noi introdurremo l'elezione diretta del Presidente della Repubblica e un sistema che dia stabilità al governo. Un sistema istituzionale all'altezza di una grande nazione occidentale come l'Italia, per tornare protagonisti in Europa e nel mondo, per tornare a investire sul nostro futuro, per tornare a crescere e a prosperare. Grazie per la visione!